Estate sicura a Esernia. Nella città Pentra si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per garantire una stagione di vacanze il più possibile sicura, visto anche il perdurare dell'emergenza epidemiologica e la conseguente necessità di prevenzione. La stagione estiva, ha sottolineato il prefetto Callea, richiede ancora di proseguire nell'indispensabile azione volta a rafforzare nei cittadini e in particolare nei più giovani, la consapevolezza dell'importanza di comportamenti responsabili e appropriati. Particolare vigilanza quindi sulla movida con l'intensificazione delle attività di osservazione e controllo da parte delle forze dell'Ordine, specialmente nei luoghi più frequentati nel fine settimana. Le azioni di contrasto saranno rivolte anche ai reati che destano maggiore allarme sociale come i tentativi di ripresa della criminalità o lo spaccio e il consumo di stupefacenti. Non da ultimo al centro del piano della sicurezza per quest'estate a Esernia ci sono le strade e la fluidità della circolazione, anche in vista del possibile aumento di persone che trascorreranno nel capoluogo le loro vacanze o che transiteranno per turismo.